Come mai avete deciso la prima del vostro spettacolo dedicarla al team sportivo Special Olympics degli Spiders? Abbiamo presentato questo spettacolo a favore degli Spiders perché gli Spiders rappresentano una realtà importante, molto significativa del nostro istituto. E quindi essendo uno spettacolo organizzato, pensato, studiato, interpretato questa volta da insegnanti ci è parso giusto, opportuno collegarlo a questa realtà così qualificante anche della nostra scuola. E abbiamo proprio allestito la prima del spettacolo interdisciplinare tra cinema e teatro proprio per gli Spiders. Avete in mente di farne altri? Altri spettacoli o altre repliche? Diciamo spettacoli e repliche, vediamo. Le repliche ben vengano perché sono segno di un gradimento di un successo. Altri spettacoli siamo una fuscina e un continuo fermento. Perfetto, grazie mille.